Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato alle ultime notizie. I numeri del Covid-19 in Veneto mostrano ancora un andamento abbastanza impressionante. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 95 persone. Il dato totale delle vittime sfiora i 4.000 morti nella regione. I nuovi positivi contano 3.581 nuovi casi. Attualmente i ricoverati sono 3.068. Di questi, 336 pazienti si trovano in terapia intensiva. Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge con le misure che regoleranno i nostri movimenti per le prossime feste. Il testo di fatto blinda le feste Natale-Capodanno all'interno dei confini del comune in cui si risiede. Mentre tra il 21 dicembre e il 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra le regioni con divieto anche di poter andare nelle seconde case. Decreto che è già stato firmato anche dal Presidente della Repubblica. Confermato il sistema in tre fasce con coprifuoco in tutta Italia alle 22, ristoranti chiusi in zona gialla alle ore 18. Poi nei 20 giorni tra Natale e l'Epifania nessun segno di allentamento. Anzi i blocchi cresceranno e le misure si faranno più rigide. Il nuovo decreto si compone di due soli articoli e serve a dare copertura proprio alla stretta natalizia consentendo a Conte di firmare il DPCM per 50 giorni e quindi di fissare la scadenza del decreto in vigore già dal giorno 4, quindi da domani, anche oltre l'Epifania. Si parla già del 15 gennaio. Soprattutto però il decreto consente misure rigide durante le feste e questo sarà a prescindere dal colore di appartenenza. Stabilisce, lo ribadiamo, che dal 21 dicembre non si possa uscire dalla propria regione e dalle province autonome se non per lavoro, salute e situazioni di necessità oltre che per tornare alla propria residenza o domicilio. Malumori per queste modalità con cui si è arrivati a varare il decreto. Il documento che comprende delle restrizioni, come avete sentito, molto rigide è stato approvato dal governo senza sentire gli enti locali e quanto emerge dalla conferenza delle regioni che si è riunita proprio oggi. Secondo loro il decreto è stato approvato in assenza di un preventivo confronto tra le regioni. Un metodo in contrasto con lo spirito di leale collaborazione sempre perseguito nel corso dell'emergenza, considerato peraltro che la scelta poteva essere anticipata anche nel corso di un confronto preventivo. E questo malumore purtroppo si sente, si percepisce anche tra le persone che hanno contestato in particolare la scelta sulla giornata del Natale, il servizio. Sarà un Natale difficile quello che vivremo in questo 2020. Tutti siamo già molto provati dall'emergenza sanitaria che da mesi tiene tutti sotto pressione su più fronti e oggi molti cittadini sono infuriati per il clima di limitazioni imposti con il nuovo DPCM. Molti rischiano il dramma della solitudine, già perché sarà imposto il divieto di spostamento tra comuni. Così anziani genitori che solitamente si trovavano a tavola con i figli se abitano in comuni anche vicini ma diversi non si potranno nemmeno fare gli auguri di persona. Un limite che in queste ore viene contestato a voce alta per i molteplici controsensi che i cittadini avvertono in questa imposizione. Da sempre il valore del Natale entra nelle nostre case e molti rischiano di essere lasciati completamente soli trasformando la giornata in un disagio sociale che potrebbe avere ripercussioni psicologiche per i soggetti più fragili. Tanti gli appelli lanciati al Governo in queste ore ma prevale la linea dura e le richieste sono rimaste inascoltate. Purtroppo le strade del Veneto continuano a registrare gravissimi incidenti stradali dall'esito mortale. Nicolas Povolato, 17 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto nella serata di ieri. Era alla guida della sua moto, era diretto probabilmente a casa, a Zelarino, quando si è scontrato con un'auto. Un incidente fortissimo che ha stroncato la vita di Nicolas. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, però ogni soccorso è stato purtroppo inutile. La notizia della sua morte ha sconvolto il territorio e sono numerosi i messaggi in suo ricordo, in sua memoria. Violenza ignobile contro la polizia ieri sera a Padova. Tutto è accaduto in Prato della Valle durante un controllo. Quattro agenti sono finiti all'ospedale, cinque giovani sono stati arrestati. Vi raccontiamo i dettagli di una serata di enorme follia. Una serata con scene da film americano d'alta tensione, solo che lo scenario è la piazza più bella di Padova e dove quattro poliziotti sono stati picchiati e cinque persone arrestate. Gli agenti di tre pattuglie del reparto prevenzione e crimine, congiuntamente alle volanti della questura di Padova in servizio sul territorio per la sicurezza e vigilare sul rispetto delle norme anti-Covid, sono intervenuti all'interno dell'isola Memmia dopo aver visto un gruppo di persone intente a consumare alcolici. Alla richiesta dei documenti i soggetti si sono rivoltati, facendo esplodere una serie di violenze contro gli agenti. Uno degli arrestati ha inveito nei confronti di due uomini in divisa, sferrando un pugno al volto di uno dei due, afferrandolo per la divisa e strappandogli la mascherina indossata. Successivamente ha afferrato agli arti inferiori un altro poliziotto che era intento a rendere collaborative altre persone sottoposte al controllo. Nel frattempo un secondo giovane ha colpito agli arti un altro operatore, procurandogli un trauma distorsivo alle dita della mano. Un terzo malvivente invece, oltre ad avventarsi sugli agenti al fine di far guadagnare la fuga agli amici, ha tentato di afferrare l'arma di uno degli operatori. Altri due hanno afferrato un quarto agente intervenuto in soccorso, procurandogli una contusione alla spalla all'anca. Due degli arrestati sono stati altresì trovati in possesso rispettivamente di una dose di marijuana ciascuno. I cinque erano già noti alla polizia in quanto pregiudicati. Ora sono responsabili in concorso per i reati di resistenza, violenza, minaccia, lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, una delle cinque persone arrestate è stata accusata anche di tentata rapina. E' stato individuato il pirata della strada che ieri mattina a Treviso ha investito una ragazzina che stava attraversando la strada. E' accaduto in mattinata. Mentre la quindicenne è stata accompagnata dal 118 all'ospedale, la polizia locale in poco tempo ha raccolto le testimonianze di alcuni presenti, ha vagliato le immagini delle telecamere di sorveglianza. Alla guida del mezzo c'era un pensionato che è stato denunciato. Torniamo ora a parlare della tragedia avvenuta domenica scorsa sulla strada di Vigonza dove ha perso la vita un ragazzo di 19 anni. Uno schianto che ha lasciato sconvolti anche i soccorritori. E' stata ora chiesta una perizia su quell'incidente. La procura di Padova ha disposto una perizia per fare chiarezza sul contesto in cui si è consumato il tragico schianto domenica pomeriggio a Vigonza in provincia di Padova nel quale ha perso la vita Sammy Elfartas, 19 anni, della provincia di Venezia. Era seduto sul lato passeggeri e lo schianto non gli ha dato scampo. Rimane grave l'amico che era alla guida. I rilievi eseguiti dalla polstrada dovranno ricostruire la dinamica esatta ed ora la perizia servirà a fare ancora più luce. La macchina stava proseguendo su via Carpane quando all'improvviso il conducente ha perso il controllo della guida. Ha colpito delle colonnine del gas e subito dopo la macchina è volata oltre la recinzione di una proprietà privata dove ha terminato la sua corsa. Ma perché il mezzo è uscito di strada? Perché il conducente ha perso il controllo? E a che velocità procedevano? Tutte domande che troveranno una risposta dall'esito della perizia. Il conducente, come previsto dalla prassi della legge, è indagato per omicidio stradale. Dalla sera di lunedì 14 dicembre prossimo e fino alla mattina di giovedì 17 gli impianti di distribuzione carburanti sia in rete ordinaria sia lungo le autostrade saranno chiusi. Si tratta di uno sciopero comunicato dalle organizzazioni di categoria Faibe Confersercenti, Feggica Cisle e Figisc Anisa Conf Commercio. La decisione si è resa necessaria in conseguenza della inspiegabile indisponibilità del governo a inserire le piccole e piccolissime imprese di gestione a cui sono affidati gli impianti nel novero delle categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi decreti ristori. La distribuzione carburanti è classificata come servizio pubblico essenziale dovendo garantire pur nelle attuali come già nelle passate circostanze di emergenza la continuità dell'attività. Ne consegue però che i gestori oltre a subire contrazioni drammatiche del fatturato per effetto delle restrizioni alla mobilità al coprifuoco notturno non hanno alcuna possibilità di contenere i costi fissi che risultano invece molto elevati e mantenere l'attività di distribuzione a disposizione del pubblico. Dovranno essere ricostruite le cause di un incendio scoppiato a Codissago di Longarone in provincia di Belluno all'interno di un sito industriale. Le fiamme si sono sviluppate in un silos contenente oltre 600 metri cubi di cippato utilizzato per la produzione di energia elettrica. Il lavoro dei vigili del fuoco è durato dalle 9 di ieri mattina ed è proseguito anche tutta la notte. Parliamo di un altro incidente stradale avvenuto a Padova un altro conducente ha perso il controllo del mezzo che stava guidando finendo in maniera autonoma fuori strada schiantandosi contro un palo della luce il giovane alla guida è rimasto ferito. Sentiamo. Incidente stradale nel comune di Padova in via San Marco un'auto uscita di strada in maniera autonoma abbattendo un palo dell'illuminazione pubblica non solo la macchina ha iniziato a perdere benzina. Alla guida dell'auto un 22enne è rimasto ferito e trasportato all'ospedale dal 118. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dalla vicina caserma che hanno messo in sicurezza il veicolo rimasto rovesciato su un fianco e hanno evitato conseguenze in seguito alla fuoriuscita del carburante. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi. A Trevisa la Guardia di Finanza ha sequestrato 117 tonnellate di pellet contraffatto denunciate 19 persone tra titolari delle ditte e autotrasportatori per introduzione nello stato di prodotti contraffatti frode in commercio a posizione di segni industriali mendaci e ricettazione. Il pellet proveniente da altri paesi come Slovenia Croazia Polonia Ucraina già confezionato in sacchetti da 10 kg era pronto per essere commercializzato al dettaglio da diversi rivenditori nelle province di Padova Roma Frosinone Pescara Campobasso in frode ai consumatori ai quali sarebbe stato presentato nella gran parte dei casi come prodotto certificato con il marchio internazionale M+. A insospettire le fiamme gialle circa la genuinità dei trasporti tutti eseguiti da imprese di spedizioni estere utilizzando auto articolati anche questi sottoposti a sequestro sono state le genericità e in alcuni casi la totale assenza di documentazione di accompagnamento del prodotto. Allontanamento e divieto di avvicinamento alla moglie per un uomo di 63 anni ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia accade nel veneziano dove la donna ha trovato il coraggio di denunciare quanto accadeva tra le mura domestiche violenze e maltrattamenti ripetuti da parte dell'uomo che secondo le testimonianze non si fermava nemmeno davanti ai figli. A partire da venerdì 4 dicembre un vortice ciclonico in discesa dal Regno Unito porterà delle condizioni ancora di maltempo generalizzate sul Nord Italia dunque in queste ore è in continuo monitoraggio l'andamento climatico anche per capire eventuali situazioni di criticità che si potrebbero sviluppare sui territori in particolare del Nord poi vedremo anche nel dettaglio le previsioni meteo. Giochi senza tempo è il titolo del calendario 2021 dei Vigili del Fuoco presentato proprio in questi giorni e curato dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Giochi senza tempo è il titolo del calendario 2021 dei Vigili del Fuoco presentato in questi giorni e curato dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Dedicare un calendario bambini significa dedicarlo a un sentimento di speranza per tutti noi immagini bellissime che ci aiutano a ripercorrere la storia dei pompieri. Così il ministro dell'interno Luciano Lamorgese a chiusura della cerimonia di presentazione del calendario 2021 che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con l'Unicef e al suo compianto presidente ha ideato avvalendosi anche quest'anno del prezioso contributo degli allievi dell'Accademia di Belle Arti autori delle illustrazioni. I protagonisti del calendario istituzionale sono i giocattoli e di riflesso i bambini che proprio nei pompieri trovano i loro eroi forse perché come sottolinea il capo del Corpo Nazionale Fabio Dattilo usano camion appariscenti grandi gru e autoscale con luci e colori o magari perché sono eroi che arrivano sempre al momento giusto per salvare la gente. E adesso entriamo nel dettaglio delle previsioni del tempo a cura di Arpav dal pomeriggio di venerdì 4 e nel fine settimana episodio prolungato di marcato maltempo precipitazioni estese persistenti sulle zone montane e pedemontane con quantitativi definiti anche molto abbondanti fenomeni di minore entità sulla pianura centro-meridionale limite della neve in rialzo specie sabato fino a 1500-1800 metri su prealpi e 1000-1004 su dolomiti marcato rinforzo dei venti meridionali forti sul mare e sulla costa forti anche molto forti sulle zone di montagna siamo arrivati alla termine di questa edizione tra poco l'informazione continuerà con lo spazio nazionale ma vi ricordo anche alle 20 e 30 la rubrica da sindaco a sindaco il programma con Maria Elena Sinigaglia sindaco di Rovolon che incontrerà il sindaco di Agna Gianluca Piva io vi saluto vi auguro una buona serata e vi do l'arrivederci a domani grazie a tutti